Nicola, è bellissimo essere qui e parlare di Piano Piano, anche perché è un film molto particolare in quanto con questa struttura, anzi questa teoria di personaggi che tu metti in scena e porti in vita sul grande schermo evochi un po' quello schema della fiabba di cui parlava proprio, comunque proprio lo schema tipico delle fiabbe ma allora a questo punto la domanda è, l'adolescenza è una fiabba iperrealista? Ah che bello, che bella domanda, sì, sì lo è al 100%, lo schema della fiabba dei Gunis, film ispiratori, la storia infinita cioè ci sono i bulli che buttano il protagonista nella spazzatura e poi lui trova questo buco, appunto questa libreria e da lì parte la sua avventura, sì, l'adolescenza è una fiabba iperrealista che poi per esempio ecco il buco ricorda anche che è un'opera letteraria, però il giardino segreto questa idea di un mondo che ne nasconde poi un altro, a cosa ti sei ispirato infatti? Ti dico, su quello le cose sono venute, è proprio una dopo l'altra, nel senso che appunto partiamo da una storia vera, quindi realista che è la costruzione dell'asse mediano, una storia poi non è una storia, è un'ambientazione, come dire per cui partendo da lì ho cominciato a immaginare questo castello, abbiamo cercato questa masseria su una collinetta, in una cerniera che doveva rappresentare la cerniera epocale, no? quindi l'infanzia di questo mondo, quindi gli anni 80, che poi era tutto, come dire, a funzione della cerniera che vive la protagonista, quindi quel primo passaggio importantissimo e doloroso che è il passaggio all'adolescenza, no? dove si ridiscutono un po' tutti i rapporti, soprattutto con i genitori e in piano piano la sensazione che ho avuto da spettatrice è che non solo è importante il ruolo dello sguardo è un film di sguardi, di riflessi, degli sguardi, degli effetti che suscitano questi sguardi ma la sensazione da spettatrice è di essere osservata quindi l'occhio meccanico della macchina da presa è un wire privilegiato che spia anche chi guarda, quindi non solo chi si muove sullo schermo è una domanda interessante, devo dire, non ci avevo pensato, tra l'altro anche il poster diciamo così mi sento un po' osservato e io vengo dal documentario, anzi dalla docuserie per essere più preciso quindi la mia formazione è proprio quella, rubare, stare con i protagonisti, stare con i personaggi entrare in sintonia e poi rubare pezzi di loro vita, o meglio all'inizio rubare, poi alla fine me li regalano perché c'è sempre un buon rapporto però sì, forse sì, la mia formazione è quella, quindi se hai avuto questa sensazione può essere giusta E a proposito sempre di ricostruzione degli anni Ottanta è talmente forte anche da un punto di vista tecnico ed estetico e quanto è stato proprio fondamentale ricostruire in modo così dettagliato come resa effettiva sullo schermo un periodo che sembra quasi cristallizzato sia nella storia che nella memoria collettiva È stato, guarda, più divertente che difficile nel senso che intanto abbiamo fatto una lunga ricerca di location per trovare una location che già avesse, come dire, quella sensazione di cristallizzazione nel tempo di cui parli anche di epoche stratificate perché poi in realtà la casa di Anna è 60-70 con mobili che arrivano fino agli anni Ottanta per cui quello e poi c'erano tanti elementi che chiaramente funzionavano alla storia come il baracchino, come alcuni elementi, alcuni dettagli che io ho freschissimi nella memoria nonostante siano passati tanti anni è stato faticoso sì, ma devo dire più divertente che faticoso Che esperienza è stata, visto che parlavi appunto del tuo mondo e quello del documentario di partenza, quindi passare da un discorso di realismo a invece un ibrido che guarda anche un aspetto fictional anche proprio nel rapporto con gli attori sul set È stato, devo dire, mi ero preparato nel senso mi ero preparato, tra l'altro avevamo girato un corto quasi con lo stesso cast poco prima che era proprio propedeutico, cioè era fatto proprio di proposito per darvi l'opportunità di fare un po' di palestra con la recitazione ma devo dire che sul set non ho avuto particolari difficoltà né nella direzione, nel dialogo con gli attori né nella tecnica, diciamo se vuoi, nel linguaggio il vero confronto è stato con la sceneggiatura quindi col tenere, come dire, la tensione giusta e senza sbavature spero di esserci riuscito per 85 minuti, 84 minuti Non solo ci sei riuscito, ma lavorare anche in tandem con più persone per esempio la stessa Antonia Che tipo di esperienza? Quanto ti ha arricchito lavorare d'equip? Molto, moltissimo, moltissimo Tra l'altro cito anche gli altri due sceneggiatori che sono Davide Serino e Francesco Agostini ed è stato proprio un tandem, nel senso abbiamo fatto a staffetta è stato io e Antonia, poi io e Davide, poi io e Francesco poi di nuovo io e Davide, poi con Antonia è stato proprio così, io c'ero sempre qui è stato proprio un po' di più e poi è stato proprio un po' di più Grazie a tutti.